Questo è il mio corpo onirico, quello che uso quando mi aggiro nei miei sogni. In questo sogno sono in un letto d'ospirale. Il medico tiene in braccio un foggatino rosa. Avvolto nel foggato vedo il musetto del mio canne. Un piccolo terrio di nome Lollabelle. L'ho basciata sulla fronte e le ho detto ti amarò sempre. Vivere in quell'intervallo fra l'attimo in cui tutto finisce e l'attimo in cui tutto ha inizio. E quando chiudi gli occhi, che cosa vedi? Niente. Adesso aprili. Vi voglio raccontare una storia che parla di un'altra storia. riguarda il momento in cui ho scoperto che la maggior parte degli adulti non sa assolutamente quello che dice. Alla fine, però, l'ho visto, il ponte tra l'amore e la morte. E ho capito che la scopo della morte è liberare l'amore.